Continuano le splendide serate del Sabaudia Film Commedia, ma lasciamo che sia proprio uno dei due direttori artistici a raccontarci quello che ci aspetta questa sera. Lo sapevo che mi stavi aspettando qui fuori. Un dibattito con lo psicologo Crepe, con la nostra amica sceneggiatrice Roberta Colombo, con Nancy Brilli, con Simona Izzo e con l'onorevole Cirinna, la senatrice che ha fatto la legge sulle nuove coppie di fatto e sulle unioni civili. Quindi venite, il dibattito sarà molto acceso e molto interessante e anche il film vi assicuro è bellissimo. Quindi 18.45 qui in biblioteca. Mi raccomando, ciao.